Un progetto nato dalle idee degli artisti, si può dire così? Anche sì, e dunque abbiamo presentato questo progetto all'amministrazione con l'appoggio totale dell'ente mostra, quindi della Proloco di Anghiari e abbiamo proposto questa, diciamo, expo, queste mostre collaterali che saranno di grande supporto alla mostra dell'artigianato qui ad Anghiari quindi saranno coinvolti l'ex mattatoio che sarà aperto come mostra al pubblico per la prima volta e poi il Museo Statale Taglieschi ci hanno, insomma, dato l'appoggio anche la soprintendenza con questo museo dove all'interno saranno esposte delle ceramiche, hanno partecipato a questa mostra otto artisti tutti sul tema della ceramica e con interpretazioni varie e il nostro progetto, diciamo, era quello di invitare la gente, insomma, a visitare un luogo così prezioso e importante per Anghiari e che ci ha ospitato e quindi abbiamo creato, diciamo, con le nostre opere un dialogo tra il passato e il contemporaneo Di fronte al Museo Taglieschi c'è? Di fronte al Museo Taglieschi c'è l'esposizione dei lavori dell'Istituto d'Arte ospitati dalla Chiesa di Sant'Agostino, anche con questo, insomma, un bel progetto e tutti legati al Sacro, quindi arte sacra, restauro e, insomma, con questa chiesa che è meravigliosa quindi ancora una volta invitare la gente a rivisitare questi spazi e questi luoghi che sono una grande risorsa del territorio Avete un po' copiato le idee di New York perché ora in questo momento ormai sono 7-8 anni che nei posti più impensati vengono fatti grandi mostri Voi avete pensato all'ex mattatoio? L'ex mattatoio è uno spazio che si presta moltissimo e poi, insomma, perché no? Cioè, copiato non direi Noi abbiamo un contenitore che, insomma, città come New York e anche Metropoli ce lo invidiano quindi quale posto migliore per ospitare l'arte e l'artigianato? Noi con questo progetto abbiamo voluto, diciamo, toccare quel confine che è tra l'artigianato e l'arte